Si parla di province, di quello che ne sarà dei lavoratori delle province abruzzesi, sindacati uniti in questo caso più che mai per parlare proprio del problema occupazione? Assolutamente, in questo momento CGL, Cisla Will e UGL sono compatti a rivendicare la necessità di arrivare nel più breve tempo possibile, entro il 31 ottobre alla definizione della ricollocazione del personale, delle funzioni da residui da rimandare alla provincia e ciò che la regione deve prendere per sé. È un fatto che ormai non possiamo più procrastinare, entro il 31 ottobre la regione deve decidere assolutamente. La situazione è drammatica, innanzitutto i servizi che venivano erogati alle province oggi stanno soffrendo, spesso non vengono svolti, pensiamo alla manutenzione delle strade, alla manutenzione delle scuole, ai servizi sociali. Questo dipende sia da una legge scelerata, la legge 56 del Rio, ma anche da una incapacità della regione Abruzzo di programmare l'allocazione delle funzioni. Cosa ne sarà di questi lavoratori in esubero delle province e quale può essere la loro ricollocazione? Per noi sarebbe molto più comodo ricollocarli in regione, però c'è la possibilità che entro il 31-12 qualcuno possa essere collocato ai comuni dove c'è la necessità, perché la regione ha chiesto la disponibilità ai comuni dove ci sono i posti di poter inserirli in quella situazione.